Andanovic di pugno, ancora un as, Skriniar spazza l'area di rigore, non impeccabile qua Andanovic sulla respinta, sul tiro di un as che era centrale alla fine, Andanovic va di pugno e lascia lì la palla, per fortuna che c'era Skriniar. Sensi per Lukaku, Lukaku ancora Sensi, il destro sul secondo pallo, giro raso terra, palla fuori alla sinistra di Kordaz, c'è stata forse una deviazione, attenzione grandissima palla di Brozovic per Sensi che prova a girare Kordaz, non ce la fa, gli tira sullo stinco e Kordaz riesce a respingere il tiro di Sensi, grandissima occasione per l'Inter, qua Brozovic da una palla illuminante a Sensi che taglia benissimo il campo, si trova tu per tu con Kordaz, prova ad aggirarlo, Kordaz mangia la foglia, rimane lì in piedi e chiude lo specchio della porta a Sensi che a quel punto pensava di aver saltato il portiere, invece non era così, bravissimo Kordaz, un po' meno Sensi in questo senso. Due volte l'Inter è pericolosa, Barella porta avanti la palla sulla destra, e niente il Crotone è chiuso, riproviamo. Per forza, qui è solo un fatto di avere un po' di pazienza nella cena. Eccolo il cross di Barella e non era male a cercare Lautaro, altra deviazione e anticipo della difesa del Crotone, poi a Kimi, lotta, arriva il cross di Barella, in mezzo per Lautaro, anticipato d'Armian, tiro al volo, palla che attraversa tutto lo specchio della porta, in orizzontale, arriva il cross di sé e si! Mellè, palo, 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 non ho visto di chi, deviazione di testa, è il sesto palo nelle ultime quattro partite ragazzi, altro palo, altro palo dell'Inter, che li ha presi con Napoli, li ha presi con lo Spezia, li ha presi col Verona e arrivano anche oggi. Adesso non ho visto che ha colpito di testa, Lukaku, attenzione Lukaku, il sinistro, rovesciata di Lautaro, alto sopra la traversa, Barella, grandissima palla per Lautaro, Lautaro, Lautaro non riesce a controllare, un pallone perfetto dato da Barella, sono altri quarti di destra, giro, Lautaro entra in area, deve stoppare, tirare, sbaglia lo stop e consente quindi a Gigi di mettere il pallone in corner, grande palla di Barella. Barella punta l'avversario, si sporta il pallone fino in fondo, il cross è bellissimo, di testa, bastoni, non riesce a inquadrare la porta. Lautaro, palo, un altro, Barella la rimette in mezzo, incredibile, altro palo, altro palo dell'Inter, Lautaro si libera bene all'interno dell'area di rigore, prova il destro sul primo palo, Kordas guarda solo la palla perché non ci può arrivare, palla sul palo un'altra volta. Mamma mia ragazzi, palo pieno, poi attraverso tutta la linea. Adizioni Sensi! E che mai! E raga dai buttiamola dentro! Cambiato. Lukaku Eriksen! 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 Christian Eriksen! Tutto al limite dell'area, 1-2 Eriksen, Lukaku Sanchez Eriksen, poi Eriksen prova il destro dal limite dell'area di rigore, forse una deviazione che inganna Kordas, che non riesce a prendere la palla indirizzata sul primo palo, minuto 69, Christian Eriksen, The Magician, bravo, bravo Christian, entra e fa gol. Ecco il cambio azzeccato di Antonio Conte, vantaggio Inter con Christian Eriksen, uno degli uomini simbolo di questo scudetto nerozzurro, forse c'è una deviazione, adesso dobbiamo capire. Perché, rivediamo, eh, Lukaku, sponda Eriksen, destro, sì, deviazione decisiva di Magaglianes. Scusa, 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 Romelu, 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 chiede palla a Perisic, non pare fuori gioco, Perisic in mezzo per Romelu! C'è! Luuu! Lukaku! 2-0, torna al gol anche Romelu! Non dovrebbe essere fuori gioco, almeno non è stato segnalato, vediamo se ci sarà il VAR in corso, perché Perisic parte lì, sulla linea, quindi io nel vedere l'azione qualche dubbio ce l'ho. Va al VAR, fuori gioco. Fuori gioco, niente, 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 niente. Te l'avevo detto io. Sanchez si gira bene, Sanchez guadagna la tre quarti, buono il pallone per Perisic che entra in area di rigore, può metterla in mezzo! Non ci arriva nessuno, non ci arriva Akhimi, non ci arriva Lukaku, era buono il pallone di Perisic, molto buono. Barella recupera, non c'è fallo, attenzione che l'Inter parte in campo aperto, 3 contro 1, Barella serve Akhimi, Akhimi da sola, tu per tu concorda! Vai Ashtraff, vai Ashtraff! Goal! Ashtraff! Akhimi! 2-0! Akhimi! Però chiedono il fallo i giocatori del Crotone per un fallo di Barella, chiedono il fallo di Barella ai giocatori del Crotone, vediamo se ci sarà un check. 2-0 per l'Inter, vediamo se ci annullano anche questo. Il gol è di Ashtraff Akhimi, rivediamo, Barella. Ma sì, forse trattiene per la maglia il giocatore del Crotone, l'arbitro però ha visto tutto e ha fatto andare avanti, quindi secondo me non dovrebbe essere annullato a termini di regolamento, perché non è un chiaro e evidente errore e l'arbitro ha visto, quindi secondo me non dovrebbe annullarlo, però vediamo un po' quello che si decide. Comunque per ora siamo sul 2-0, per la seconda volta, il primo è stato annullato quello di Lukaku per fuorigioco, vediamo se questo di Akhimi ce lo lasciano oppure no. Aspettiamo di capire la situation. Mi è sembrato abbastanza, cioè non mi è sembrato un intervento, le mani di Barella vanno un po' in groppa. Gole, 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 2-0 per l'Inter, aspettiamo solo il fischio che arriva adesso, vinciamo a Crotone, 2-0. Grandissima Inter, vinciamo 2-0 e adesso ci manca il punticino, se l'Atalanta domani vince ci manca un punticino. Devo fare una cosa, devo far vedere la collanina nero-azzurra che mi ha fatto mia figlia oggi per portarmi a Crotone. Sì, e allora la volevo far vedere in televisione. Eh beh, è giusto, è giusto. Anzi la metto, è un po' stretta. Ok, perfetto. Eh beh, mi sembra giusto. Un amuleto, un amuleto portafortuna. Un buon amuleto, un bel regalo, eh beh, giustamente, giustamente. Va bene, allora Crotone Inter 0-2.